Porto Torres, due giovani diportisti originari di Sassari, sono stati soccorsi dalla Capitaneria di Porto di Porto Torres nella mattinata di ieri, quando si trovavano in difficoltà a bordo del loro natante da diporto semicabinato mentre si trovavano a circa 200 metri dalla costa nelle immediate adiacenze del porto commerciale turitano. L'operazione è iniziata intorno alle ore 9, quando la sala operativa della Guardia Costiera ha ricevuto la chiamata tramite il numero blu 1530 da parte degli occupanti dell'unità che hanno segnalato di essere alla deriva a causa di un'avaria al motore fuori bordo o corsa durante la navigazione dal porto di Castelsardo verso Porto Torres e di trovarsi nello specchio acqueo attraverso della spiaggia di Balai. Dopo aver appurato le buone condizioni di salute dei due giovani di età di 34 e 37 anni e averli invitati a mantenere la calma e ad indossare i giubbotti di salvataggio, l'autorità marittima senza mai interrompere il contatto telefonico ha disposto l'invio in zona della dipendente motovedetta CP810, unità navale specializzata nelle attività di ricerca e soccorso in mare. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 10, quando l'unità intercettata rapidamente dalla motovedetta è stata ascoltata in porto, dove è stata ormeggiata in sicurezza con gli occupanti un po' scorsi per l'accaduto ma che non hanno avuto bisogno di cure sanitarie. Il capo del compartimento marittimo turitano, capitano di fregata Gabriele Peschiulli, ricorda come sia fondamentale per tutti gli utenti del mare prevenire eventuali problematiche durante la navigazione attraverso un'attenta preliminare verifica delle condizioni di efficienza del mezzo nautico, accompagnata dalla necessaria considerazione dovuta alle condizioni meteomarine e alla loro prevista evoluzione.